Auto Gold.it, il filtro antiparticolato diesel aiuta effettivamente a ridurre le emissioni inquinanti e il particolato stesso? La questione è molto dibattuta. Facciamo qui alcune considerazioni. Allora, innanzitutto, se andate a vedere le riviste di 15 anni fa circa, vedrete che alcuni veicoli venivano offerti sia con filtro antiparticolato sia senza filtro antiparticolato. Cioè, lo stesso motore con la stessa potenza veniva proposto in due versioni, con o senza filtro antiparticolato. E potete andare a vedere come i dati di consumo delle versioni dotate di filtro antiparticolato erano effettivamente peggiori. Cioè, i veicoli dotati di filtro antiparticolato avevano consumi maggiori. Quindi, innanzitutto, dal punto di vista della CO2, sicuramente, almeno all'epoca, i filtri antiparticolato diesel aumentavano le emissioni di CO2, per cui, da questo punto di vista, la situazione, quindi, era peggiore per le emissioni di CO2. Poi c'è da dire un'altra cosa. I filtri antiparticolato accumulano il particolato, poi, una volta raggiunta la temperatura, diciamo così, operativa, raggiunto poi un certo livello di intasamento superiore, normalmente, al 70%, il filtro antiparticolato emette, diciamo così, butta via, scarica via, appunto, il particolato stesso, crea una sorta di, diciamo così, di supercombustione del particolato, per cui il particolato viene eliminato. Però questa eliminazione, in realtà, non va, si è visto in alcuni testi, non va ad eliminare il particolato, ma va soltanto a trasformarlo in nanoparticolato, cioè in particelle ancora più piccole e ancora più in grado di penetrare nell'organismo umano, nei polmoni, eccetera. Quindi il filtro antiparticolato sembrerebbe non essere effettivamente in grado di ridurre né la CO2, che comunque non è un inquinante, né il particolato, che anzi verrebbe trasformato in nanoparticolato, questo si è visto in alcuni test, ne abbiamo parlato in un articolo anche del nostro blog, magari nei commenti poi vi inviamo anche il link dell'articolo. Quindi, attenzione, non è detto che il filtro antiparticolato sia in grado effettivamente di ridurre le emissioni inquinanti. Certamente non aiuta i consumi, perché, come tutti i proprietari di veicolo diesel dotato di filtro antiparticolato sanno, l'auto con filtro antiparticolato si può intasare, il FAP si può intasare, però se il veicolo viene utilizzato spesso in città, si accende la spia, a quel punto bisogna necessariamente utilizzare il veicolo per almeno 10, 15, 20, 30 minuti, a seconda dei casi, soprattutto fuori città, ad alti regimi, per far sì che il filtro antiparticolato si svuoti. Quindi non sembrerebbe effettivamente un dispositivo utile dal punto di vista dell'inquinamento. Ci sono poi i sistemi più recenti, con l'AD Blue, l'AD Blue agisce a livello di combustione, quindi la cosa magari è un po' diversa, possiamo dire che in qualche modo hanno migliorato la situazione. Diciamo questo, per far sì quindi che venga emesso meno particolato e che quindi anche in generale vengono emesse meno emissioni inquinanti appunto, si può lavorare affinché il filtro antiparticolato lavori di meno, quindi si intasi meno e quindi si riduca il numero delle rigenerazioni del fab stesso. Si può innanzitutto utilizzare un gasolio di alta qualità e soprattutto si possono aggiungere additivi diesel che vadano a migliorare in generale la qualità del carburante, quindi con maggiore cetano, maggiore lubricità e quindi diciamo additivi che migliorino le performance e la qualità del gasolio. Ne abbiamo diversi, c'è ad esempio il DR Diesel, un prodotto addirittura approvato dall'ente di protezione ambientale americano, c'è il Sintofron Diesel Hub, c'è il Liqui Moli ProLine Super Diesel, c'è anche un additivo specifico della Warm Up, insomma ci sono additivi che sono in grado di migliorare la qualità del gasolio, quindi a quel punto il veicolo ha una combustione più pulita, quindi emette di suo, quindi ha la radice meno particolato, di conseguenza il filtro antiparticolato si intaserà naturalmente più lentamente e saranno quindi necessarie minori rigenerazioni. In questo modo verrà comunque emesso meno nanoparticolato, perché meno lavora il filtro antiparticolato e meno si produce nanoparticolato. Tutti questi prodotti naturalmente li trovate nel nostro store autogold.it spediamo in tutta Italia e in tutta l'Unione Europea. Chiaramente questi additivi miglioratori del gasolio, della qualità del gasolio, si possono utilizzare su qualsiasi veicolo, quindi sia che abbia o non abbia il filtro antiparticolato in quanto aiutano anche a ridurre in generale i consumi di carburante. Autogold.it